Covid-19 è un virus molto esperto. Da maggio a settembre è andato in feria. Ahimè oggi è tornato, fa una vita notturna. Gira a piedi o in macchina, ma non in treno, in autobus o in aereo. Se vai nei bar ti colpisce solo se resti in piedi, quindi se vi sedete siete salvi. E' molto furbo, entra nei matrimoni, nelle cerimonie e persino nei compleanni privati, ma non nelle scuole. Probabilmente non gli piacciono. E' una malattia che colpisce anziani e malati, ma non i pezzi grossi. Se li tocca loro guariscono. E soprattutto è esibizionista. Ha tolto il primo posto al cancro, agli infarti e altre malattie mortali. Oggi come oggi si muore solo di Covid-19. Questa è la tristere.